buonasera buonasera allora chi ci sta qui con noi questa sera chi è? Sono Valentino Nizzo direttore del Museo Civico Etrusco di Bugliano e nel tempo libero del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Quale di lui è il lavoro onesto? Beh diciamo a Bugliano sono ricompensato con pastelli e matite colorate e a Villa Giulia il vile denaro del mio stipendio infanga l'onore della carica e quindi penso che insomma il più onesto sia Bugliano. D'accordo beh insomma il fenomeno di Bugliano è una cosa insomma che interessa diciamo una nicchia molto grande diciamo una nicchiona però ci sono anche dei problemi immagino perché poi il titolare del comune di Bugliano che è quello che ha fatto partire poi questa moda pare che non sia stato tanto d'accordo diciamo all'idea di ricevere un museo perché diciamocelo tutto questi Bugliano sono come direbbero loro dei tegamacci non non hanno molto non sono molto interessati al bene culturale o sbaglio? Eh no è così insomma mi sono trovato in una situazione in un clima non facile nel quale provare a veicolare i valori della tutela della conservazione della promozione del patrimonio e insomma era capitato poche settimane prima che un rinvenimento venisse scambiato per semplice sporcizia quindi insomma non è facile nonostante il museo abbia una una traduzione una tradizione pluridecennale ma era stata un po' dimenticata e rimossa quindi abbiamo lavorato molto per insomma sensibilizzare la popolazione e diciamo con con ottimi risultati nonostante il colpo. Stiamo parlando di Bugliano o di Roma? Non lo so fai tu. La metafora è applicabile. Prima di parlare dell'esperienza diciamo di direttore di museo o come direbbe qualcuno operatore dei beni culturali che fa sempre pensare all'operatore ecologico e io cercherei di concentrarmi sul fatto dell'etruscologia perché noi abbiamo anzitutto qui un pubblico più ampio che in gran parte è veicolato dalla presenza di Nizzo che buca il video come noto ma dall'altra parte anche dal fatto che questa volta abbiamo scelto una locandina particolarmente a Chiappona insomma una bella immagine zozzona di Milo Manara che però ci dicono è stata utilizzata per una mostra quando ancora non eri direttore. Ah beh sì assolutamente è una mostra di cui Villa Giulia deve continuare a vantarsi risale al 2008 Etrus Comics fu un'iniziativa portata avanti dall'allora soprintendenza ma anche dal anzi soprattutto dal dal concessionario Civita era all'epoca il concessionario del museo e promosse non soltanto una riflessione su gli etruschi e i fumetti che insomma è stata importante ma anche la realizzazione di fumetti dedicati agli etruschi e c'è un bel catalogo piuttosto raro da trovare sul sul mercato che che la racconta e venne realizzata come locandina questa bellissima reinterpretazione degli sposi delle tombe affrescate di Tarquini ad opera di Milo Manara che insomma abbiamo pensato fosse opportuno riprendere in questa sede. Parliamo però adesso più probabilmente dell'etruscologia io sono vintage e quindi quando studiavo io diciamo archeologia c'era sì c'è insomma un insegnamento di archeologia vero e proprio non c'era nella mia università però naturalmente sapevamo che erano gli etruscologi più famosi e quindi c'era Pallottino quindi autore di manuale ancora oggi ristampato e poi Mario Signorelli è uno dei miei eroi ecco Pallottino sappiamo tutti più o meno chi è ci vuoi parlare di Mario Signorelli? Eh Mario Signorelli il museo di Bugliano si trova in piazza Mario Signorelli lo hanno notato in pochi è un giusto tributo al contraltare degli etruscologi Mario Signorelli non conosco nel dettaglio la la biografia ma nasce come cultore della storia locale in particolare del del Viterbese anche con opere rilevanti e poi non so cosa sia accaduto nel suo percorso diventa una sorta di interprete spirituale in senso letterale della parola degli degli etruschi perché entra in contatto direttamente con loro e questo contatto privilegiato tramite la loro essenza immateriale gli consente di scrivere diverse opere che insomma possono essere diciamo piacevoli da collezionare non proprio da consultare come documentazione scientifica quindi diventa il modello di un diciamo di una ripresa negli anni sessanta a partire agli anni sessanta di un fenomeno che però più volte è riaffiorato nella storia dell'etruscheria prima e dell'etruscologia propria l'etruscheria è quella fase della riscoperta degli etruschi settecentesca con pretese illuministiche ma tanti errori che potremmo utilizzare come termine anche per descrivere gli appassionati di etruschi contemporanei beh a questo proposito però io mi ricordo un aneddoto che credo fosse attribuito a un professore d'archeologia classica no il della seta e diceva che quando uscì questo libro di Bianchi Bandinelli no non so se fosse della se no forse già beccati quando uscì la famosa storicità dell'arte classica di Bianchi Bandinelli lui lo metteva in una parte della biblioteca che chiamava l'armadietto dei veleni ah ecco è probabile che sia beccati sicuramente ma i libri di signorelli i libri di signorelli a questo punto io ne ho letti due che sono una nel mondo allucinante degli etruschi e l'altra le vie segrete degli etruschi scritti per la bellissima casa editrice Sugarko che non so se esista ancora e lì questa era una cosa una cosa bellissima perché lui parlava parlava con i lucumoni quello che mi chiedo io quando si tratta di Sigmund Freud con la gradiva che bello che bravo Sigmund Freud è un precursore dell'archeologia perché Freud sì e signorelli no? No no ma per carità chiunque voglia parlare con gli etruschi? Ah ci dice giustamente Di Fazio che era Ducati Di Fazio Ah Ducati qui salutiamo che un prosopografo ci aiuta a correggere le nostre sciocchezze era Ducati Ducati in relazione a Bianchi Bandinelli quindi insomma torna quadra nel cerchio quadra mi sono perso però adesso da questa precisazione no è benissimo che vadano tutti a dialogare con gli etruschi perché ci sono molti che ancora adesso lo fanno cioè esterminata e infinita la le potenzialità della fantasia umana anche in termini storici o leggendari e come sulle origini di Roma e su tanti temi cioè due giorni fa ho ricevuto un invito per parlare alla televisione albanese di etruschi ancora non ho risposto ci sto ragionando perché sai che adesso è di piena attualità perlomeno fra gli albanesi il tema della loro discendenza dagli etruschi e della loro eredità etrusca si ritengono i più importanti eredi e questo è un aspetto che fa riflettere su su quanto l'identità possa ancora oggi pesare anche le identità più remote e insomma il fenomeno va guardato non deridendolo ma con rispetto e comprendendone le radici storiche perché insomma ci sono degli elementi che le giustificano il problema è che hanno letto dei libri del signorelli albanese e su questi hanno cominciato a strutturare una serie di teorie alle quali credono in molti anche persone comunque che evidentemente hanno studiato e sono capaci di parlare in più lingue diciamo noi abbiamo qualche anticorpo in più quindi spero che su la storia di com'era la cosa allucinante degli etruschi che ho anch'io in una sezione della libreria dedicata nessuno creda ma il il vero problema è che in qualche modo la gente scontenta che degli etruschi sia scomparso il mistero che un tempo si diceva il mistero degli etruschi c'era un bellissimo film l'etrusco uccide ancora che insomma una delle pietre miliari del cinema trash e poi dopo invece abbiamo pare che gli etruschi non siano più misteriosi e no questo non è vero perché io sto mistero degli etruschi lo trovo in ogni anche qualunque cosa mi capita di fare che è meritevole di avere l'attenzione dei giornali se non c'è la parola mistero da qualche parte nel contenuto dell'articolo nel titolo abbiamo Valentina che è porchetto che ci segue che lavora nel giornalismo lo sa che queste parole si infilano ovunque quindi il mistero c'è ancora ci proviamo a dire che non c'è ma difficile ma però la cosa interessante che gli albanesi sono piuttosto agguerriti e penso che insomma bisogna anche fare attenzione con qualche perché c'è qualche testa calda che potrebbe insomma anche rivelarsi pericolosa se qualcuno arriva a confutare queste realtà non mi sembra invece che in Toscana in Umbria nel Lazio meridionale ci siano dei partigiani degli etruschi non c'è questa stessa foga nel definire la propria identità. Beh no perché danno per scontato di esserne eredi però se tu vai poi un po' di più nel merito dell'interpretazione di monumenti controversi come la piramide di Bomarzo o lo stesso fenomeno chiamiamolo fenomeno delle vie cave legato più o meno direttamente anche ai libri di Signorelli o altri aspetti concernenti le origini, l'interpretazione della scrittura poi insomma puoi entrare anche in in polemiche e di due tre giorni fa una polemica con un tombarolo pentito, pseudo pentito, insomma non mancano ambiti in cui gli etruschi fanno discutere ma questo è un bene perché meglio che se ne parli. A proposito di tombaroli c'è l'aspetto interessante e forse anche recuperare un diciamo noi c'è poco da fare in Italia non c'è posto per gli Indiana Jones e quindi tutte le volte qualcuno studia archeologia e dico ma tu sei Indiana Jones? No è sempre una delusione perché poi quando gli spiega quello che effettivamente fa diciamo la gente si delude dice no e ridateci Indiana Jones però c'è stato un periodo piuttosto diciamo pionieristico quando in effetti c'era una guerra aperta fra archeologi e tombaroli c'erano anche diciamo Giovanni Scichilone che poi diventò soprintendente a Chieti era bravissimo perché si faceva passare per ricco acquirente poi incastrava questi i tombaroli e se si va al museo di Vulci ci sono queste attrezze utilizzate le tombaroli per vedere i forini e sono messi lì come trofei di guerra e di questo perché non ne parla nessuno? Beh diciamo la polemica dell'altro giorno dimostra che insomma è bene parlarne, è bene confrontarsi, è bene sensibilizzare perché insomma è un tema caldo, chiaramente è un tema di di competenza prevalente delle soprintendenze ma io vengo da un percorso interno al ministero come funzionario di soprintendenza quindi ho lavorato molto su questo e su contrasto all'illecito nel settore dei beni culturali, c'è un problema proprio di sensibilità giuridica e a volte molte cause avviate in modo opportuno dai funzionari competenti decadono perché vengono archiviate perché l'incompetenza invece è di tipo legislativo, io stesso mi sono trovato a fare denunce o a cercare di esercitare il mio ruolo nel modo migliore possibile mi sono visto archiviare casi che pensavo sono abbastanza chiari, non c'entravano gli etruschi dove nei casi di cui mi ero occupato però ci sono tanti tanti casi del genere, poche settimane fa ne ho denunciato anche uno io con dei materiali etruschi in un mercatino di quelli che si trovano in ogni angolo della nostra città e i carabinieri sono intervenuti il giorno dopo. Ecco qui però sembra di stare parlandoci di cronaca nera e c'è anche l'idea, ci sono anche un, che cosa c'è di vero nel termine archeomafia? Beh c'è molto di vero perché proprio per questa impunibilità che spesso c'è nel settore dei beni culturali è più facile commettere degli illeciti sapendo che poi ci si può pentire o comunque si può patteggiare o insomma il rischio è minimo. Speriamo che vada in porto quel progetto di rafforzamento delle punizioni per i reati contro il patrimonio di cui si è parlato tempo fa credo che sia passato alla Camera e deve fare l'ultimo passaggio al Senato, è un'ottima iniziativa, però bisogna far capire qual è la vera perdita perché c'è un problema anche di quantificazione, io tra le cose di cui mi sono occupato, un cantiere in cui c'erano stati dei danneggiamenti contro le regole di tutela preventiva non era facile quantificare il danno per le logiche giuridiche correnti. Abbiamo un po' di interventi, vabbè c'era Alberto Nani che ci chiedeva sui tombaroni, ma credo che ne abbiamo già parlato e poi ci segnalano che di prossima pubblicazione ci sarà un libro a cura di Fabio Camilletti e Fabrizio Foni, editrice Odoia di Bologna, Orrore Popolare, dove ci saranno degli, sarà dedicato al folk horror, siamo molto contenti, non vedo l'ora di procurarmelo perché sicuramente il trash spesso è molto più divertente da leggere di alcune pubblicazioni dove magari non vengono svelati dei misteri ma se ne creano degli altri e a questo proposito vorrei parlare, visto che abbiamo parlato del mistero degli etruschi, vorrei parlare del mistero degli etruscologi. Insomma, gli etruscologi sono tanti e non sono tanti, anche nelle università e allora insomma qui dicono tutti con la cultura, non si mangia, cosa facciamo? Che cosa si può dire a questo proposito? Naturalmente sarei contento che ci fosse un etruscologo in ogni rione, però come spieghiamo questa specializzazione e soprattutto che cosa significa fare etruscologia dove gli etruschi ad esempio non ci sono? Beh, allora, diciamo che intanto le cattedre sono diminuite molto rispetto a quelle che c'erano all'inizio degli anni 2000, come può testimoniare il nostro Massimiliano Di Fazio che insomma è entrato a Tavia da poche settimane. C'è una contrazione notevole dell'interesse nei riguardi del mondo antico e di conseguenza anche degli etruschi che diciamo ha radici nelle riforme scolastiche anche che li hanno circoscritti alle elementari, quindi si studiano davvero poco, se ne parla poco per questo io sono contento che se ne parli anche per altri temi, tra l'altro il commento di prima che hai citato è di Martina Piperno che è autrice di un bel volume sulla fortuna letteraria degli etruschi nel novecento. Quindi si può parlare di etruschi ovunque, di civiltà italiche ovunque, nel nostro paese e anche fuori, perché è un momento importante della storia occidentale, quello rappresentato dagli etruschi, è un momento di profonda riflessione su chi siamo, sul chi siamo di allora, sull'identità, sull'identità etnica in senso antropologico e riflettere su questi temi ci aiuta meglio a comprendere l'oggi, quindi non è qualcosa soltanto votata al culto dei materiali più o meno rilevanti che gli etruschi hanno lasciato e è proprio più meritevole di attenzione per quanto concerne il patrimonio immateriale di cui gli etruschi sono custodi e che giustifica la loro fortuna. Un tema caro al nostro comune amico Pino che, insomma, salutiamo sperando che ci ascolti. Dalla su o dall'aggiù, dipende, insomma, la cosa si preferisce. Come si è comportato. Eh sì, no, e ci chiedono, vicino all'Uvro, antiquari seri, vendono reperti etruschi, è possibile esportare legalmente? Ma se io direi, il vecchio sporco trucco è dire che te l'ha regalato tuo nonno prima del 1939, no? Legge Bontai, ma forse le cose sono cambiate? No, no, non sono cambiate assolutamente, non è legittimo vendere materiali che non si detengono legalmente, il termine non è quello del, diciamo, del 39, ma per i casi più significativi è del 1909. Pochi giorni fa mi sono occupato della vicenda della biga di Spoleto, che è stata, di Monte Leone di Spoleto, che è stata rinvenuta nel 1902 quando ancora vigeva la legge Pacca, dell'editto del Cardinal Pacca, pochi mesi dopo sarebbe stata varata la prima legge di tutela dei beni culturali ed è uno dei casi in cui si potrebbe anche reclamare il ritorno di questo oggetto, però non è legittima la detenzione se non è certificata. Poi naturalmente si giustifica con, l'ho trovato nella soffitta di mia nonna, però insomma va dimostrato e con attenzione. Il problema è che Nani, che commentava prima, riportando le parole dei tombaroli, no, non si può lasciare niente ai tombaroli se ci fornisce delle informazioni che sono essenziali. Non ci sono oggetti che valgono di più e oggetti che valgono di meno. Ogni oggetto racconta un pezzo di una storia. È come togliere delle parole da un libro nel finale. Non possiamo privarci di questo se vogliamo comprendere il nostro passato. Non è un gioco e questo devono capirlo tutti. Ma a questo proposito il vero problema è che prima le antichità che si potevano trafugare o falsificare erano soltanto reperti di altissimo livello artistico. Poi però c'è stata una democratizzazione per cui anche le anfore non so che prima si buttavano adesso insomma sono sul sul mercato diciamo antiquari hanno una certa quotazione. Ma a questo proposito e non è difficilissimo falsificare un dipinto del del novecento. Per le antichità la questione è diversa perché naturalmente se si fanno le analisi si capisce subito dove che ci può essere un falso e in alcuni casi la famosa fibula di di Preneste sta a dimostrare che tante certezze forse non le possiamo avere. E con questo proposito quanti falsi ci sono nel museo di Villa Giulia? Sì ce ne sono abbiamo una intera sezione di sequestri dove il 40 per cento sono dei falsi più o meno abili più o meno evidenti. I musei stranieri in particolare nelle sezioni etrusche contengono molti falsi perché insomma c'è stato un momento del mercato antiquario nel quale insomma hanno circolato tante opere riprodotte in modo abbastanza efficace. Io stesso conosco dei bravissimi artigiani, mi fa piacere citare il nome di Paolini che ha una bottega proprio a Cerveteri o insomma tanti amici ricostruttori e anche rievocatori sono in grado di fare cose incredibili, per fortuna lo fanno in modo legittimo e legale ma sono gli ultimi eredi di chi lo faceva in modo illegale come falsificazione e riuscendoci. I castellani stessi che sono questa famiglia di antiquari di cui costediamo la collezione a Villa Giulia erano abilissimi riproduttori di gioielli antichi, in alcuni casi lo dichiaravano, in altri casi no e alcuni loro gioielli sono quasi certamente esposti come originali antichi, in particolare in America. Ecco, insomma tutto questo lascia capire per quale ragione c'è bisogno di tutti questi etruscologi, se un altro o qualcuno che possa controllare cosa è vero e cosa è falso, insomma male non fa. Ma a questo proposito ci si dice che la riforma dei programmi di storia scolastici ha provocato una diminuzione dell'interesse generale, ma mica solo per gli etruschi, per tutto direi, però ecco a questo proposito che come possiamo reagire? E c'è soprattutto un problema, un problema molto molto grande e poco fa tu hai parlato naturalmente di tutela, ora insomma con negli ultimi tempi c'è una sorta di guerra tra poveri perché insomma sembrerebbe a detta di molti che i beni culturali siano adesso nelle mani insomma di una specie di ditta trangugia e divora che nel da sempre meno importanza alla tutela e più importanza a quello che in Francia chiameremmo le pagliette. Ora chiaramente insomma ci sono degli atteggiamenti di tipo diverso e la cosa non dico che la verità stia nel mezzo però forse la ragionevolezza ci potrebbe portare anche a spiegare che se non facciamo andare la gente al museo è poi più difficile rivendicare che venga dato più spazio alla tutela del bene culturale o no. No esattamente così il problema era un problema di comunicazione non solo di valorizzazione in una situazione globale in cui non c'era stata solo la riforma scolastica ma anche la crisi economica del 2008 con tutti gli strascichi negli anni seguenti. Chiunque perda un po' di tempo ad osservare la curva dei visitatori dei musei anche il seo può notare l'effetto su la fruizione del patrimonio culturale. Le ultime riforme sono intervenute su questo aspetto introducendo anche non solo appunto l'autonomia dei musei che è uno strumento di azione rilevante consente naturalmente di fare cose in modo più snello ma naturalmente chi le fa se ne assume la responsabilità legale cioè ci sono dei direttori che nel momento in cui fanno sanno anche che ne possono rispondere civilmente e penalmente non che questo mancasse prima ma è un po' più evidente del passato e quindi diciamo la l'autonomia è un bel pregio da questo punto di vista ma comporta grandi responsabilità e l'attenzione sulla comunicazione o iniziative che hanno avuto un forte potere comunicativo come le domeniche gratuite hanno consentito un po' di dare un colpo a una situazione che stava continuando a declinare. Adesso il covid è un nuovo problema vedremo come ne usciremo però proprio questa capacità di comunicare sviluppata negli ultimi anni ha consentito a molti musei come il nostro di continuare ad esistere anche brillare più di quanto brillavano prima. Adesso ti fermo perché io penso che in questo momento parte del pubblico potrebbe 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 essere delusa parte gli addetti ai lavori naturalmente ma gli addetti ai lavori non fanno testo e in fondo si aspettavano un buon tempone quello del museo etrusco di buiano e invece stiamo ascoltando grandi verità e delle cose serie. In questi pochi minuti che ci rimangono forse potremmo anche così e con se concederci un siparietto di buon umore e la domanda di Prammatica è questa. Qui insomma antichista sarà lei ma un etruscolo, un archeologo può ancora definirsi un antichista ora che pare che gli archeologi rivendichino questa grande distanza dalla storia dell'arte o ci sono ancora delle cose che si possono essere salvare, salvate della buona vecchia archeologia classica. Io sono per la trasversalità assoluta, non mi piace schierarmi in un campo definito, non ho mai amato la definizione di etruscologo, infatti mi sono occupato molto di più di altre tematiche rispetto proprio all'etruscologia pura, mi sono occupato di prima colonizzazione e infatti diciamo il mio profilo è anche un profilo da archeologo classico, quindi diciamo che c'è stato troppa settorialità e troppo settarismo nelle nostre discipline, sia all'interno della disciplina che nei rapporti con l'esterno. L'antichità può apparire una terra straniera ma se si invitano tutti a frequentarla non solo come turisti occasionali può essere un bel luogo in cui specchiarsi e sul quale riflettere per capire tanto del nostro passato. So che non ti sto facendo battute quindi forse ti sto deludendo ancora, però insomma sì antichista sarà lei può essere ritenuto un insulto come a volte a me sembra riduttivo la definizione di etruscologo oppure se su questo che mi sono formato. Noi dobbiamo riscoprire la meraviglia del nostro passato in tutte le sue forme, non perché sia il paese perfetto ci sia mai stata un'età del loro perché l'uomo faceva schifo allora come fa schifo adesso, ma diciamo ricostruire la nostra dimensione schifosa nella sua estensione diacronica ci aiuta a capirci meglio e chissà forse a migliorarci. Poi il passato è così lontano per cui può sembrare meno schifoso del presente. Un'ultima un'ultimissima domanda ma ci sono tante persone diciamo semicolte ma anche colte che fanno volentieri a meno dell'etruscologia di tante altre cose. Che cosa possiamo dire a loro tenendo conto che siamo in fascia protetta e che per invogli a pentirsi di questa cosa? Un argomento che possa essere utilizzato anche da parte di di chi si occupa di queste cose e sembra quasi se ne debba vergognare. Cioè dire ma perché insomma io mi sembra quasi di rubare essendo pagato per fare atruscologia o cose simili. Che gli diciamo? Diciamo che gli etruschi erano molto vendicativi e quindi di temerli perché insomma erano in grado di di fare rituali per i quali erano ritenuti migliori insomma quelli più in grado di dialogare con la divinità e produrre il bene o il male che ne consegue. Quindi insomma attenzione nel confrontarti con confrontarsi con gli etruschi molto rispetto quando meno te l'aspetti te lo trovi alle spalle l'etrusco e può non essere piacevole. Io ce n'ho uno qua dietro dall'elba che mi sta osservando e insomma positivamente. E qui salta fuori diciamo l'antropologo insomma in 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 parole povere per quelli che è proprio per quelli proprio più diciamo de ostracon. Diciamo che questo c'è se non se non vi spicciate andare a vedere i migliori musei di etruscologia ci sono delle divinità che potrebbero mandarvi delle macumbe. Non so come si dica in etrusco. Non so nemmeno io come si dica però Tukulka è un soggetto abbastanza poco raccomandabile può nei vostri sogni turbarvi come ha fatto probabilmente con con Mario Signorelli quindi fate fate attenzione rispetto per gli etruschi grande grande voglia di conoscerli soprattutto andando dal vivo nei musei quando riapriranno oppure frequentando tutte le forme nelle quali proviamo a raccontare gli etruschi non solo Villa Giulia o Bugliano ma tutti gli altri colleghi che lavorano a contatto con la realtà etrusca all'interno delle soprintendenze o nei musei sparpagliati in quasi tutta Italia insomma dalla Campania fino alla all'Emilia Romagna Veneto e Lombardia gli etruschi si sono più o meno direttamente spinti con la loro influenza. E ricordatevi naturalmente che insomma qualora non bastassero le divinità etrusche ci sono c'è il pantheon ittita che potrebbe correre in in aiuto dei dei loro cugini. Noi naturalmente dobbiamo chiudere ci sono tantissimi altri interventi ma risponderemo in chat una volta chiusa la conversazione. Grazie ancora a Valentino Nizzo B direttore di museo e ricordatevi che sul profilo LinkedIn presenta anche il museo di Bugliano e qualcuno secondo me ci casca ancora e ci rivediamo prossimamente tra due settimane con il prossimo ospite misterioso. Grazie a Giusto ricordiamo il suo libro faccio io pubblicità perché insomma sono questi libri che ci aiutano a far conoscere meglio il nostro passato. Aspettiamo il prossimo sugli etruschi. Grazie a tutti.